Kia Movement That Inspires Dopo il lancio del nuovo logo siamo pronti a conoscere la nuova Kia EV6 ovvero un'elettrica dalle generose dimensioni La batteria è da 77,4 kWh mentre 3 sono le potenze da 229 a 585 CV ne consegue che le prestazioni sono esaltanti uno scatto da 0-100 che viene coperto da 5,2 secondi a 3,5 con una velocità massima di ben 260 km orari sul modello GT Sul portellone posteriore il nuovo logo che vi accennavo notiamo linee veramente interessanti per questo che è un crossover del segmento D anche le dimensioni sono importanti 4,68 m, un passo di 2,90 m che sicuramente favorisce l'abitabilità al posteriore e una larghezza di 1,86 m per un'altezza di 1,55 m vediamo intanto la grande abitabilità che offre questa nuova piattaforma la E-GMP condivisa anche con la cugina Hyundai infatti abbiamo anche visto la IONIQ 5 guardiamo anche l'anteriore dove troviamo una nuova firma luminosa a LED molto aggressiva con fari che possono anche essere LED Matrix evoluzione del Tiger Nose e questa nuova Digital Nose che vediamo qua davanti che praticamente non presenta alcuna feritoia sotto il nuovo logo vediamo anche una delle telecamere per la visione a 360 gradi e scendiamo più giù vediamo come è stato ben integrato il radar per quanto riguarda gli ADAS in quanto la vettura è già pronta per la guida autonoma di livello 2 ma eventualmente anche per futuri sviluppi notiamo qua un active shutter che va ad aprire all'occasione la griglia anteriore vediamo infatti che ha delle paratie mobili mentre tutte le altre parti sono completamente carenate presentano queste finte prese d'aria a proposito di carenatura andiamo a dare anche uno sguardo sotto la vettura e vediamo che ha il fondo completamente piatto questo ovviamente va a ottimizzare l'aerodinamica molto bello poi il musetto qui spiovente che rende questa nuova EV6 davvero aggressiva particolare anche la rifinitura qua del passaruota di colore nero e poi vediamo cerchi molto grandi 20 pollici con pneumatici premium contact 6 nella misura 255-45 R20 quindi anche una spalla piuttosto alta ovviamente impianto frenante a dischi e poi vediamo qua anche la parte aerodinamica degli specchietti che è stata piuttosto curata guardate anche qui l'inclinazione la linea concava proprio dello specchietto altra telecamera per la visione a 360 gradi qua sotto e poi la cosa molto interessante è anche come è stato tagliato qua il tetto con queste linee nere che lo fanno quasi sembrare appoggiato sulla carrozzeria molto interessante anche il profilo della lettone posteriore dove troviamo anche delle lucette che vanno proprio a illuminare questa parte e far risaltare ancora di più questo effetto ottico del tetto che sembra appunto separato vediamo qua anche l'ottimizzazione per i flussi sempre sul spoiler posteriore e poi altra genialata è questa fascia luminosa a led che integra anche lo spoiler posteriore molto bella tutta la fascia luminosa e poi vediamo anche qui i fari a led con questo bel effetto un po' diamantato che ingloba le frecce laterali andiamo un attimo ad aprire il portellone che ha l'apertura elettrica vedete anche l'effetto 520 litri la capacità minima del bagagliaio che arrivano fino a 1300 abbattendo i sedili quindi qualcosa in meno circa 200 litri quando andiamo ad abbattere i sedili rispetto alla cugina Ionic 5DV di Hyundai i sedili si abbattono facilmente tirando questa leva e poi vediamo qua sotto c'è un doppio fondo dove troviamo il kit di riparazione per le ruote interessante qua poi il sistema per quanto riguarda la ricarica perché è possibile andare a installare questo adattatore che prevede anche la possibilità del V2L ovvero vehicle to load qua dentro praticamente troviamo una presa un adattatore che ci consente di cedere energia sia a case predisposte appunto per ricevere energia dalle vetture sia per esempio a un caricatore che potrebbe essere quello del nostro computer o di qualunque altro dispositivo fino a un carico di 3,6 kilowatt da questo lato c'è la presa di ricarica ma proprio la ricarica è la parte più interessante di questa vettura capacità di ricarica fino a 350 kilowatt con una potenza stabilizzata fino a 239 la ricarica viaggia dal 10 all'80% in 18 minuti e addirittura possiamo ricaricare 100 chilometri in 4 minuti e 30 secondi l'impianto di questa versione che è addirittura l'entry level è targato Meridian Surround vediamo materiali piuttosto morbidi qua nella cartella superiore dello sportello tanti tasti ma soprattutto display doppio curvo da 12,3 pollici differente per esempio da quello della Hyundai molto bella anche la finitura qua che si illumina nella console centrale poi vedete il fondo è completamente piatto il pianale non è tanto alto proprio perché la batteria si trova qua sotto è una batteria di uniti litio da 77,4 kilowattora vediamo un piccolo sguardo agli interni volante doppia razza particolare e poi se riusciamo vediamo anche di accendere il sistema di infotainment come dicevo display da 12,3 pollici poi molto bello anche qua la presenza di questi tasti facili da raggiungere anche qui se fosse illuminato vedremmo alcuni tasti touch magari mettiamo delle immagini sopra comando per le marce quindi drive, parcheggio, neutral e retromarcia telecamere a 360 gradi guardate che bello anche il sistema di ricarica wireless per il cellulare che è addirittura ventilato pozzetto ma poi la cosa straordinaria è che si possono andare anche a reclinare questi sedili completamente all'indietro avendo anche proprio un effetto di divano di chaise long veramente spettacolare e poi vediamo ancora la forma molto particolare qua dietro che magari consente anche di appendere una giacca materiali questi che vediamo sono sia realizzati in pet riciclato come per esempio la parte qua superiore della console centrale del cruscotto e poi vediamo qua interni in pelle vegana quindi molto attenta all'utilizzo dei materiali presa usb qua davanti e altre due qua sotto e poi troviamo anche un bel pozzetto nella parte inferiore della console centrale vediamo tanto spazio a disposizione per le gambe e possibilità anche di rigolare lo schienale o abbatterlo direttamente da qua dietro vi faccio vedere come ultima cosa proprio l'avvitabilità posteriore belle le bocchette qua ai lati possibilità di riscaldare anche i sedili posteriori prese usb comode a questa altezza e dicevo impianto stereo della meridian visibilità posteriore da verificare quando la proveremo troviamo questo piccolo vetrino nella parte del montante c tettino apribile elettrico i prezzi partono da 49.500 euro per la versione rear wheel drive con 168 kilowatt e si sale invece a 53.000 euro per la versione 4 wheel drive che aggiunge invece 96 cavalli arriviamo a circa 229 ulteriore step 2022 arriverà anche la versione GT con addirittura 586 cavalli e 740 newton metri di coppia per un prezzo che si dovrebbe aggirare intorno ai 62.000 euro e allora aspettiamo in trepidante estesa questa nuova Kia EV6 il lancio è previsto per settembre sicuramente per quel periodo l'avremo già provato e vi sapremo dirmi qualcosa di più su come va questa nuova Kia EV6 io vi saluto sono Marco un saluto qui da Milano vi ricordo che tutte le informazioni le trovate sul nostro sito newsauto.it like e condividi se ti è piaciuto questo video ciao alla prossima